Luciano Bulgarelli Presidente del Consorzio Vini Mantovani, siamo qua all'istorante Cost questa sera e abbiamo presentato alcune nostre eccedenze per quanto riguarda il vino del Vino Mantovano. Come solito sempre è dimenticato, ma in realtà Terzo Provincio Lombardo per la produzione del vino, vino che vanno dai Lambruschi in particolare, del Lambrusco Mantovano, ai vini della Collina Morenica, che si è vicino al Garda, dove abbiamo vini di carattere internazionale. Ovviamente il vino potrà essere un aspetto di carattere commerciale e anche una questione di passione, chi si avvicina al mondo del vino deve essere sicuramente un buon, non dico intenditore, ma comunque capire quelle che sono le intenzioni e la volontà che ha il produttore del vino, perché il vino è un'interpretazione di quello delle uve. La cosa importante però è che io ritengo sempre che ogni vino è importante quanto rispecchia le uve e la produzione, perché l'uomo deve intervenire, ma però deve essere prodotto anche a basto.